Una soddisfazione certamente per il comune di Palagiano, parliamo tanto di eco-compatibilità, eco-sostenibilità e il comune di Palagiano è risultato uno dei comuni più ricicloni, diciamo tra il 65 e il 70%, 69 più o meno insomma siamo tra queste percentuali, un risultato che certamente testimonia lo sforzo dell'amministrazione in questo senso ma anche il senso di responsabilità dei cittadini. Sindaco, la signa certamente è soddisfatto di questo risultato? Soddisfatto anche se possiamo ancora continuare a migliorare sia come risultati sia poi come effetti visivi all'interno della città. Certo, rientrare e ricevere il premio dei comuni ricicloni è un motivo di soddisfazione per l'amministrazione ma per la comunità perché poi sono gli effetti dell'impegno dei nostri cittadini che hanno imparato a differenziare e a conferire nella maniera più giusta e più opportuna tanto da portare il dato che si aggirava intorno al 43-45% di qualche anno fa e arrivare quasi al 70% di oggi quindi un salto in 5 anni straordinario e per il terzo anno riceviamo il premio, quest'anno per la prima volta in questi ultimi 3 anni questo è il primo premio come comuni ricicloni, cioè aver superato il 65% di differenziata. Quindi un grazie alla mia comunità che continua a permetterci di essere presenti nei momenti e nei luoghi che contano.